E adesso un articolo dedicato a Belen Rodriguez che è stata intervista da Paola Perego e ha parlato veramente, senza filtri specialmente, di Stefano De' Martino, da cui ha avuto il piccolo Santiago Rodriguez. La conduttrice ha chiesto a Belen se fosse felice, e la risposta è stata davvero interlocutoria. Sei felice? Belen ha risposto, sì. Per poi aggiungere con grande sincerità, a tratti come tutti d'altronde. E il pensiero dei fan è andato al suo rapporto con De' Martino. La stessa show Gilra Argentina ha dato importanza anche ai soldi dicendo che con essi non solo è riuscita a realizzare se stessa ma anche aiutare la sua famiglia. Ma la nota dolente, rimane CMQ Stefano De' Martino? Infatti durante l'intervista è scoppipata anche in lacrime. svelando che in realtà sia anche una donna fragile. E sulla famiglia ha concluso dicendo. Sono molto legata alla famiglia e davvero credo che sia importante condividere dei momenti. Ma dei momenti seri. Io la famiglia se non me la godo spesso non sono niente. Se devo essere sincera io ancora come mai Stefano e Belenzi siano lasciati mica l'ho ancora capito?